Ciao a tutti amici di Ussurrizo in più e bentornati al nostro appuntamento settimanale con i migliori risultati sportivi. Come ben sapete i campionati nazionali sono finiti, la Serie A da Vintal Milan, ma c'erano da terminare le Coppe Europee. Andiamo con ordine e partiamo da quella di minor valore, la Conference League. La Conference League, la cui finale si giocava a Tirana in Albania, ha visto affrontarsi la Roma contro il Feyenoord. Una finale molto chiusa, con poco divertimento, ma che ha visto uscire la squadra giallorossa vincitrice per 1-0. I giocatori e il loro allenatore Murigno hanno poi festeggiato nei giorni successivi con un pullman scoperto in giro per tutta la capitale, con ritrovo al Circo Massimo. Davvero delle scene molto belle e che speriamo per loro si possano ripetere. Passiamo ora alla finale di Europa League, che si è giocata a Siviglia tra Antark Francoforte e Glasgow Rangers. Questa finale è stata molto più attiva anche se tutto è avvenuto nel secondo tempo ed è terminata sul risultato di 2-2, tempi supplementari non hanno cambiato nulla e si è così andati ai calci di rigore. Al calci di rigore a trionfare è stata la scuola tedesca, che non ne ha sbagliato neanche uno mentre è stato decisivo l'errore per i scozzesi di Aaron Ramsey, l'ex centrocampista della Juve che era entrato appositamente per calciare il rigore. Non una buona idea a quanto pare. Per l'antra Francoforte è un trionfo europeo diversi decenni dopo l'ultimo. Passiamo ora al piatto forte. Infatti si è giocata da pochissime ore anche la finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool. Una partita che ha visto protagonista il portiere del Real, il belga Thibaut Courtois, che a furia di parate splendide ha trascinato la sua squadra alla vittoria. Infatti il Real Madrid ha vinto per la quattordicesima volta la Champions League con il risultato di 1-0 su uno splendido gol da pochi passi di Vinicius. Il giovane brasiliano così si trova a 21 anni decisivo in una finale europea. Diciamo che il suo futuro è molto radioso. È terminato da poco anche il Giro d'Italia, che nella passerella finale di Verona ha visto trionfare l'australiano Jay Hindley per poco più di un minuto di vantaggio sull'equadoregno Richard Carapaz. A completare il podio lo Spagnolo Olanda, soltanto quarto e il primo degli italiani che però è stato un immenso Vincenzo Nibai, il quale a 37 anni alla sua ultima stagione non ha raggiunto il podio per pochi minuti, tutti persi in una delle prime tappe sull'Etna in Sicilia. Da segnalare anche il fantastico ottavo posto di Pozzo Vivo, il corridore Lucano è diventato il più vecchio corridore ad entrare in top 10 al Giro d'Italia degli ultimi 98 anni. Infatti era dal 1929 che un corridore così vecchio non finiva nei primi 10, che poi io vecchio lui con i suoi 40 anni, vecchio sportivamente, ne parliamo sempre così eh. Giro d'Italia che si conclude anche con 5 ottime vittorie di tappe di corridori italiani che speriamo l'anno prossimo possano migliorare. Per questa settimana è tutto, ci sentiamo settimana prossima con Passione Sportiva di Mattia e con un bel aggiornamento su Roland Garou di Tennis. Ciao a tutti!